Vorrei augurare che il periodo trascorso nel servizio presso il Vaticano sia per ognuno di voi un'opportunità per crescere nella fede. Lo ha detto il Papa ricevendo il personale dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza Italiana presso il Vaticano. La fede, ha detto, è il più prezioso tesoro che le vostre famiglie vi hanno affidato e che voi siete chiamati a trasmettere ai vostri figli. È importante riscoprire il messaggio del Vangelo e accoglierlo in profondità della propria coscienza e nel concreto della vita quotidiana, testimoniando con coraggio l'amore di Dio in ogni ambiente, anche in quello di lavoro.